Ho incocciato un pesce, mi sta svuotando tutto il mulinello, lo stiamo seguendo con la barca e non sappiamo più cosa fare, c'è una maggianza pazzesca, toni dappertutto, io dovevo aver incocciato un tono grosso, Fiera veramente, lasci dietro, non so più cosa fare, ho il mulinello che vuoto. Mi piace, è veramente enorme, ferma, non si riesce neanche a combattere, sta andando per i fatti suoi, il mulinello è praticamente vuoto, cosa faccio? Vedi qua si strappa tutto adesso, devo aver incocciato un tono grosso, grosso, si sta svuotando un mulinello, letteralmente svuotando, anche se lo vedi per la coda un bonito non si dà così. Seguilo, 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 seguilo. Chiamalo papà, chiamalo papà e diglielo. Seguiamolo, seguiamolo. Ma prima a un certo punto sembrava venire su, poi non è più venuto. Non so, qua è, sta svuotando veramente tutto. No, continua a seguirlo, Fiera, continua a seguirlo, continua a seguirlo. Piero, ho incocciato quello grosso, fidati, sono sicuro. Ma sta svuotando, è finito quasi. Piero, veramente, sta finendo il mulinello, vieni di te, non so cosa fare. E' quello grosso che abbiamo visto che sarà stato 20 kg, abbiamo incocciato, fisso, ci strapparà tutto. Cioè, nonostante lo stiamo seguendo con la barca, continua a tirare, deve essere una bestia. Fiera, continua a seguirlo, continua a seguirlo. Ficca la lenza è in tiro, seguilo. No, 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 deve essere sul fondo. C'è una bestia, te lo giuro. Ecco, loro lo stiamo praticamente seguendo, stiamo andando alla sua natura. Boh, ferma, 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 ferma. Boh, veramente, Pia, vieni di te, tieni di te. Vincente come mi viene. No, 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 Pia, 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 Pia. Deve essere un bestione da 20 kg. Sta finendo tutto il mulinello. Qua è finito, eh. Prova a seguirlo col motore, aspetta. Pia, quello è enorme, fidati, non ce la facciamo a tirare su questa canetta del cazzo. Ci strappa tutto, fidati. Infatti, guardate la camera quanto è piegata. Finché possa seguire lo seguo, ma non so, cioè, sarà andato sul fondo. E poi sarà andato, non so, proviamo, non so, non so proprio cosa fare, perché... Continua a registrare. Questa è una cosa. Accelera, fai con la voce. Non fa troppa resistenza, Pia, non fa troppa resistenza, eh. Cavolo, se la perdessi, metto qua, quello è grosso, è fisso. Perché non può essere un bonitto, perché... Eh, o sono cinque bonitti con un amo. Adesso, vedi, 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 che va. Il problema è che cosa c'è qua? Leggi, che è quello piccolo. Non è nella sua velocità, adesso. Vedi che la violenza è... È circa 40 minuti che l'abbiamo incocciato. Cioè, il mulinello è vuoto. Vuoto, proprio vuoto. Ci saranno rimasti 50 metri di filo. Vedete, la cosa si è cos'è? Provare a fare... A legare... A legare? Piara, Piara, occhio, finisce, 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 occhio. Occhio, se no si pezza la canna. Sta finendo. A legare un'altra lenza, dici? Aspetta, 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 aspetta. Fermati, fermati, fermati. Finita, è finita, è finita, è finita, basta, strappa tutto.